Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video allora oggi voglio farvi vedere questa nail art davvero molto molto bella per quanto mi riguarda è una nail art appunto che mi ricorda il mare o comunque gli abissi quindi è per quello che l'ho intitolata in questo modo mi scuso per l'unghia corta sul link ma purtroppo si è spezzata e ovviamente non ho voluto tagliare le altre unghie spero che appunto questa nail art vi piace e vi lascio al tutorial stendiamo su tutte le unghie uno smalto verde esmeraldo satinato io sto utilizzando questo bellissimo colore dell'essence colore go che è del numero 172 fatto asciugare bene il tutto prendiamo un dotter possibilmente con la punta abbastanza grande e uno smalto color petrolio satinato io sto utilizzando sempre questo dell'essence colore go che è del numero 147 e vado a realizzare così solo su una parte dell'unghia dei puntini grandi di conseguenza con un dotter un po' più piccolo vado a realizzare dei puntini un po' più piccolini infine quando tutto si sarà perfettamente asciugato andremo a stendere il top coat io sto utilizzando questo di Essence del Gen Nail Polish bene ragazzi il mio tutorial finisce qui spero tanto che questa nail art vi sia piaciuta e vi aspetto al prossimo video ciao ragazzi un bacione